Ricata storicamente è un club che ha dato vita negli ultimi anni a dei progetti seri, importanti, che hanno dato continuità e che ha portato sempre alla squadra ad avere anche in campo il pensiero del club facendo anche dei risultati attraverso il percorso di crescita graduale e di giovani. Una squadra che l'anno scorso ha fatto il quinto posto, quest'anno è nelle zone playoff, sta continuando il suo percorso sportivo e anche tecnico perché questo è il terzo anno alla guida del mister Romano, che è un allenatore molto serio, preparato, uno dei migliori per la categoria. Ricata è una squadra forte, dicono i numeri che ad oggi Ricata in casa non ha mai perso, sette partite, cinque vittorie e due pareggi, quindi questo già la dice lunga e dice tutto sul tipo di partita che andiamo ad affrontare. Il discorso di qualcuno che è andato via, siamo a dicembre, si fanno delle scelte in sintonia con la società, con il direttore sportivo, con la direzione sportiva per cercare di migliorarci se c'è la possibilità e magari cercando di accontentare anche qualcuno che magari ha meno spazio e può andare altrove a giocare con più continuità perché venire a Trapani c'è anche, giocando nel Trapani c'è anche questa tra virgolette, questo fattore che è una rosa che ha in tutti i reparti doppioni e quindi continuità, chi la cerca magari d'altrove può averla mentre qui proprio diventa più complicato. Noi sicuramente siamo vigili sul mercato, il direttore sta lavorando e sicuramente arriverà qualcosa che però ancora bolle in pentola, però di ufficialità non abbiamo nulla, dobbiamo quindi aspettare.